Fede, un periodo dell'anno che ti vede abbastanza impegnato, partiamo da qui e parliamo anche e soprattutto dalle ultime cose che hai fatto in Germania. Sì, in Germania è stato un torneo pazzesco, visto che due tornei prima non erano andati tanto bene, che avevo fatto due primi turni. In Germania, come al Cairo, ho fatto una finale battendo giocatori molto forti, in finale sono arrivato abbastanza stanco, visto che dal primo turno ho vinto quasi tutte le partite, al terzo, 6-4 al terzo, 7-6, 7-5, quindi giocatori molto forti, quindi una grande settimana e molto felice. Le cose che più hai nel mirino? Sicuramente dopo l'esperienza che abbiamo fatto scorsa settimana a Cagliari, nel Challenger, sono più consapevolezza nel far bene a livello 15.000-25.000, quindi sicuramente a fare bene a Reggio Emilia, provare a fare bene anche a Milano e poi quando arriva Roland Garros sperare di essere testa di serie e giocare alla pari con tutti.